Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Ancora oggi è stata una giornata in compagnia delle temperature gradevoli e nella media del periodo, ma già a partire dalla giornata di domani assisteremo ad un graduale aumento della temperatura, questo per merito di un anticiclone di matrice africana che invaderà gran parte del nostro territorio italiano portando a un deciso rialzo termico, quindi se vediamo anche dalla grafica vedremo proprio questa bolla di aria calda che prende origine e forza dalle regioni del Nord Africa che invaderà gran parte del Mediterraneo centro-occidentale. L'apice del caldo verrà proprio raggiunto nella giornata di martedì e mercoledì dove si sfioreranno i 30-32 gradi anche in Valle Seriana e punte di 34-35 gradi nella città di Clusone e così come nella città di Bergamo. Ecco andiamo all'evoluzione del tempo per la giornata di domenica domani che vede un cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso con temperature ancora gradevole seppure in deciso rialzo termico, una ventilazione praticamente assente un pochino più sostenuta sul lago di Iseo a origine di Brezza. Poi nel corso della giornata avremo qualche locale annuvolamento sul nostro territorio più settentrionale e aerobico ma non sono previste delle precipitazioni. Zero termico che si posizionerà intorno ai 3.700 metri di altitudine. Andiamo poi all'evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana. Nella giornata di lunedì avremo bel tempo su gran parte del nostro territorio. Abbiamo detto temperature in deciso rialzo tanto che già nella giornata di lunedì si raggiungeranno i 29-30 gradi anche a Clusone, uno zero termico in rialzo oltre i 4.000 metri di altitudine. Il martedì sarà veramente una giornata molto calda con temperature un po' su tutta la Valle Seriana superiore ai 30 gradi e pensate punte di 33-34 gradi a Bergamo dove specie nelle ore serali si sentirà anche una decisa AFA. Andrà un pochino meglio sulle nostre montagne dove invece le temperature saranno mitigate e avremo una ventilazione sostenuta ad origine di Brezza. Mercoledì ancora molto caldo sul nostro territorio con temperature ancora di qualche grado in aumento con punte di 35-36 gradi a Bergamo e di 32-33 a Clusone. Ecco che però nella giornata di giovedì questa onda di calore dovrebbe attenuarsi con qualche locale acquazzone anche sul nostro territorio un po' di variabilità. instabilità proprio nelle ore centrali della giornata dove abbiamo detto non escludiamo qualche locale acquazzone o scoppio di tuono. Venerdì ancora una certa variabilità sul nostro territorio con temperature in discesa di circa un paio di gradi in attesa di un prossimo fine settimana che dovrebbe essere in compagnia del sole e con temperature un pochino di più nella media del periodo. E per il Mettetutto a voi la linea.